Diversi appuntamenti si sono tenuti a Termoli sulla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che hanno visto coinvolte le scuole. La Casa dei Diritti ha promosso un nuovo incontro avente ad oggetto la violenza di genere, con un'attenzione particolare alla sua configurazione e le varie forme in cui la stessa può declinarsi, nonché alle sue conseguenze a volte fatali. L'incontro si è svolto nell'Istituto Alfano di Termoli, nell'Aula Magna del Liceo Classico. I momenti come questi, nella giornata di oggi, i momenti con i ragazzi, sono quelli più importanti perché la formazione dei nostri giovani, e l'ha dimostrato del resto anche la Vicente, anche tutto il dibattito che si sta sviluppando attorno alla morte di questa ragazza del Veneto, di Giulia Cicchettin, sta appunto a dimostrare che è importante e necessario che si parta dalla scuola, si parta dalle famiglie e si faccia appunto un'azione importante sul territorio con una rete non soltanto associativa ma anche delle istituzioni. Il Molise non è essente dalle violenze di genere e tante le indagini e le denunce pervenute alla procura di Larino. Per fortuna non abbiamo fatti eclatanti gravissimi come quelli che la cronaca in questi giorni ci sta portando, però ci sono, ci sono fatti di violenza domestica, fatti di stalking e fatti di violenza sessuale. Altro evento che ha visto protagonisti i ragazzi è stato Stop the Violence, Break the Chain all'istituto Ettore Majorana, il pensiero è in movimento. Allora il messaggio che noi abbiamo dato oggi attraverso le tante manifestazioni che abbiamo fatto e faremo, perché i ragazzi sono partiti con il minuto di rumore. Adesso hanno questa manifestazione in cui riflettono, leggono, si confrontano con esperienze di vita vissuta e poi concluderemo con un flash mob. Il messaggio qual è? Che loro riflettano, ma io ho detto a loro, non deve essere una riflessione che rimane confinata ad oggi sull'onda del sentimento della giornata odierna. Deve essere una riflessione che lascia un segno profondo. Spezzare la catena, il titolo di questa canzone, perché oggi più che mai dobbiamo fare rumore e spezzare veramente questa catena nel vero senso della parola. Cammina, danza, sollevati. Attraverso la musica, attraverso la danza, noi oggi ci vogliamo far sentire Grazie a tutti.